Direi che gli anni che hanno visto il grande successo dell'economia europea fino almeno appunto al 1973, sono stati degli anni in cui lo Stato nazionale e lo Stato come centro della vita politica ed economica ha riguadagnato la sua centralità. È vero che nasce la comunità economica europea, è vero che nascono dei nuovi organismi internazionali, ma questo non spiega questa crescita così sostenuta con tassi di crescita mai raggiunti in passato se non per periodi brevi, la qualità dell'aumento dei redditi, la spesa che di quei redditi si fece nell'espansione enorme dei consumi, il fatto che in Europa si siano prosciugate delle sacche di povertà plurisecolari. Tutto questo deve, secondo me, una, insomma, la sua ragione probabilmente più importante alla forza degli Stati nazionali da vari punti di vista. La liberazione, la guerra, avevano portato fin dalla seconda metà degli anni 40 nelle popolazioni europee un nuovo senso di voglia di nazione e di identificarsi in uno Stato. Sono gli Stati democratici che trascinano con sé i 30 gloriosi. I grandi paesi europei sono paesi democratici, con l'eccezione della penisola iberica che però va verso una democrazia nel corso degli ultimi anni 60 e dei primi anni 70. E tutto ciò vede qui un discorso, secondo me, interessante, da una parte di riaffermazione dell'idea nazionale e dell'importanza dello Stato e dall'altra appunto la capacità dello Stato di integrare ceti sociali, interessi, classi, si sarebbe detto, che non avevano avuto rappresentanza o soddisfazione economica negli anni 20 e negli anni 30. Se vogliamo dare una lettura economica e dunque limitativa dei drammi europei della prima metà del Novecento, possiamo dire che le guerre, le dittature furono anche espressione del fatto che quei paesi in cui ampie masse di popolazione iniziavano ad avere accesso al Parlamento e al suffragio non erano state soddisfatte nei loro interessi economici. E da qui la capacità poi dei populismi e dei governi totalitari di far leva sul malcontento delle masse. Questo errore insegna qualcosa nei 30 gloriosi e i governi democratici europei riescono a integrare nei loro apparati decisionali e a contemplare nei loro obiettivi economici una piccola borghesia che entra finalmente a far parte dei Parlamenti, un ceto di lavoratori che attraverso i sindacati, attraverso la consultazione tra sindacati e governi riesce a esprimere delle posizioni unitariamente. E quindi una nuova politica degli investimenti e dello Stato sociale che attraverso un incoraggiamento dei consumi, attraverso un farsi carico tipico dello Stato sociale, delle istanze anche, dei ceti meno avvantaggiati, riesce appunto a sostenere una crescita di lungo periodo partendo proprio diciamo dallo Stato nazionale come unità politica e unità economica. Non possiamo però concludere senza notare che il modello di sviluppo e di crescita che quelli 30 anni hanno portato con sé era un modello alla lunga insostenibile. L'uso del petrolio che divenne ben presto centrale a scopo energetico per la costruzione di materie prime o di plastiche, per il riscaldamento di fatto affermò un modello di crescita e un modello di creazione della ricchezza che non poteva essere sostenuto e che la crisi petrolifera di cui la crisi petrolifera mostra le corde non solo economicamente e politicamente ma anche sul piano della sostenibilità globale ed è qui in qualche misura che lo Stato nazionale trova il suo limite e emergenze che emergono da quel modello non potranno certo essere risolte a livello di Stato nazionale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!